ciao ragazzi sono sul terrazzo di casa mia inizia a fare un gran caldo però purtroppo dobbiamo stare chiusi in casa ancora qualche giorno intanto stando a casa approfitto per fare qualche acquisto e stamattina mi è arrivato questo del pacchetto ho levato l'indirizzo per i motivi di privacy adesso andremo ad aprirlo cosa ci sarà mai qua dentro lo scopriremo nel prossimo filmato nella prossima clip a presto eccomi qua pacco aperto seconda clip di filmato che cosa ci sarà mai stato in questo pacco bello grosso andiamo subito a scoprirlo un attimo ancora si inizia a intravedere l'oggetto ecco qua questi sono i miei nuovi due cerchi per il mio ciao sostituirò i cerchi originali cioè quelli a raggi che monta ora e monterò questi che provengono da un ciao team tutto originale sempre marchiato piaggio ed ecco qua questi cerchi rossi metà rossi metà arancioni un colore bellissimo mi avviso verranno montati sul mio ciao bianco quello che avete visto nei video scorsi eccoli qua veramente splendidi farò qualche ritocchino comunque meritano davvero il contrasto rosso nei cerchi con il telaio bianco è davvero una bella accoppiata quando potrò li monterò per ora restano a casa appena potrò uscire li monterò ovviamente ve li farò vedere grazie a tutti è terminata anche la seconda clip del filmato a presto dal mio nuovo acquisto ciao a tutti